fratelli bianconeri e sorelle bianconere tanto per cambiare torino è bianconera un derby combattuto un derby lottato palla su palla uomo su uomo marcature ruvide falli di qua un po più di là un'occasione subito all'inizio poi ancora un'altra la juve poteva segnare due gol dopo neanche dieci minuti ma se li ha mangiati poi nel secondo tempo partita più combattuta dove comunque la juve ha ancora avuto le sue possibilità e non è riuscita soprattutto con l'ultimo passaggio che è la cosa che bisogna migliorare assolutamente perché ci sono state sei possibilità offensive dal limite dell'area di rigore dove la juve ha sbagliato l'ultimo passaggio e questo non si fa perché sennò poi si rischia c'è stata quell'occasione di quadrado dentro l'area di rigore che ovviamente a parti invertite sarebbe è stato due anni di polemiche invece non hanno dato il rigore a quadrato quindi si prosegue si va avanti e chi se ne frega e noi ci siamo andati a prendere il tiro della grandissima vittoria con Manuel Locatelli vivi la juve loca vivitela fino in fondo tu che sei anche tifoso dentro perché un gol del derby resta per sempre tiro secco da fuori area e gol il tiro dalla distanza quello che ci siamo detti tantissime volte in altre partite è mancato inizia ad arrivare ed è un'altra caratteristica tecnica che i nostri centrocampisti hanno una vittoria col gol da centrocampo ma veramente è stata una partita combattuta dove tutti hanno fatto il loro dovere dove hanno sudato hanno corso hanno pressato hanno cercato di recuperare i palloni hanno combattuto con fallo e senza fallo dentro un derby come sarebbe detto una volta molto maschio ma molto maschio vinto meritatamente dalla juventus che alla fine ha avuto le palle gol del match tech praticamente qualche uscita ma non ha potuto fare nessuna parata viceversa dall'altra parte milinkovic salice ha fatto una grandissima parata per esempio sul colpo di testa di alexandro un colpettino alla classifica aveva chiesto mister allegri un colpettino alla classifica è arrivato obiettivo era vincere il derby e scavalcare il toro la juve ha vinto il derby ha scavalcato il toro adesso vediamo anche i risultati delle altre ma questa è la terza vittoria consecutiva in campionato quarta con quella di champions contro il celsi ma terza vittoria consecutiva in campionato per risalire bisogna fare il filotto e tre sono già un numero importante adesso c'è la sosta della nazionale e poi al rientro c'è uno juventus roma spettacolare che ci deve dare un altro obiettivo minimo e cioè avvicinarsi in questo caso anche alla roma fratelli bianconeri e sorelle bianconere tanto per cambiare torino e bianconera grazie